Al Tari di Marcianise la mostra ornamenta i gioielli della Campania da Pompei alla contemporaneità nell'ambito del Salone Internazionale della Gioielleria in corso nel centro orafo casertano. L'inaugurazione con il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Mi faccio innanzitutto dire che questo è un esempio di come si possano conciliare insieme la nostra cultura, la nostra arte, la nostra tradizione storica con il valore dell'impresa, la capacità di elaborare e concepire nuovi prodotti e di metterli sui mercati, quindi l'economia che sposa la cultura. Ovviamente noi nell'arte ora abbiamo una tradizione millenaria, basta vedere quello che è stato rinvenuto nei siti archeologici e come dire è un immaginario. Io dico sempre che le nostre imprese hanno la capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando a questo processo il genio italico, genio italico che nasce dal sedimento della nostra storia. L'esposizione, nata da una collaborazione tra il Parco archeologico di Pompei e il Tari, prevede numerose attività di formazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio e delle tecniche dell'arte orafa dell'antichità. In mostra ha circa 100 reperti databili fra il primo millennio a.C. e il primo secolo d.C., costituiti in gran parte da gioielli provenienti dagli scavi di Pompei e altri siti del territorio vesuviano, che saranno anche oggetto di attività di valorizzazione, conservazione e indagine gemmologica. La mostra si inserisce nell'appuntamento open quattro giornate di lavoro dal venerdì a lunedì, nelle quali 500 aziende, tra quelle operative tutto l'anno, presso il centro e quelle invitate per l'occasione, possono massimizzare gli appuntamenti di business in un ambiente molto curato. Dalla prestigiosa galleria d'ingresso all'ampio spazio della piazza che ospita i padiglioni espositivi, sulla quale si affacciano le oltre 400 aziende stabilmente presenti, il Tari offre così un colpo d'occhio. Open è un appuntamento innovativo per il mercato ideato per offrire ad aziende dettaglianti l'opportunità di presentare e scoprire le nuove collezioni di gioielleria e servizi all'avanguardia e un programma di promozione profilato per gli operatori del settore orafo. Grazie.